I palestinesi festeggiano con fuochi d'artificio. Il sito preistorico di Teles Sultan, vicino alla città di Jericho, nella Cisjordania occupata, è stato inserito nella lista dei siti patrimonio mondiale dell'UNESCO. La decisione, arrivata a Riyadh durante la 45esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, ha però scatenato l'ira di Israele, che nel 2019 ha lasciato l'UNESCO, accusandolo di parzialità. Il Ministero degli Esteri israeliano ha criticato l'iscrizione, definendola un nuovo segno dell'uso cinico che i palestinesi stanno facendo dell'UNESCO e della politicizzazione dell'organizzazione. I palestinesi però festeggiano. La vittoria di oggi è duplice, politica e culturale, ha detto Abdel Karim Sidr, sindaco di Jericho. Nell'ultimo mese c'è stata una feroce battaglia con gli israeliani per impedire che Jericho fosse inserita nella lista del patrimonio culturale, ma la verità non viene coperta e la ricerca scientifica, gli scavi e gli archeologi hanno dimostrato senza ombra di dubbio la veridicità della storia palestinese. Teles Sultan è nella Valle del Giordano e contiene resti preistorici che testimoniano l'attività umana. Secondo l'UNESCO, tra il IX e l'VIII millennio a.C., qui si stabilì un insediamento permanente grazie al terreno fertile dell'oasi e al facile accesso all'acqua. E i teschi e le statue che vi sono stati scoperti testimoniano le pratiche culturali della popolazione neolitica che vi abitava. È il quarto sito palestinese a entrare nella lista del patrimonio mondiale dopo la chiesa della Natività, la città vecchia di Ebron e la terra degli olivi e delle vigne a sud di Gerusalemme.